Ma secondo te, se ci nascondiamo dalla polizia dentro un cespuglio, smettono di cercarci? Proviamoci! Prontissima! Sta bruciando tutto! Sta bruciando? Sì! Ma sono a 300 metri! Ma dovevi essere a 200? Arrivo! No, mi farai morire qui dentro! Pensavo che... Mi farai morire qui dentro! Che mi facessi un 3, 2, 1! Arrivo! Ma tu mi hai detto vai! Arrivo, cara! Dove... Ma dovete bruciare, da solito? E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki! Sì, sono Stef! Che si tratta di GTA V! E siamo tornati su GTA, questa volta con una nuova tipologia di serie. Chiamiamola così perché proveremo a fare tante cose divertenti e molto strane. Vedremo se riusciremo a completarle. Il nome della serie si chiamerà Si Può Fare, perché infatti cercheremo di fare una serie di fare delle cose strambe su GTA V e vedremo se appunto funzionano. In questo episodio ne faremo tre e la prima che proveremo a fare è appunto di seminare la polizia nascondendoci dentro i cespugli. Tu immaginatelo nella realtà! Esatto! Continuo a immaginatelo nella realtà e pensa... È quello che voglio fare! Quello che stiamo per fare! Comunque vediamo se funzionerà! Due stelline fatte! Sei proprio brava ad attirare la polizia! Grazie! Allora adesso dobbiamo arrivare appunto alle stelline che lampeggiano, come in questo momento. Appena lampeggiano proviamo a nasconderci dentro un cespuglio e vediamo se così... Ok! ...la polizia non ci trova. Ok, ci siamo! Allora a me stanno lampeggiando, uguale a te, uguale a te, uguale a te! Qua mi sembra che ci siano dei bei cespugli! Scendi, scendi, scendi! Manca dentro l'albero, va bene? Sì! Vado, cespuglio diretto, cespuglio diretto! Cespuglio... Io vado qua! Qua! Io sono in un cespuglio! Ci sta malapena! Vediamo cosa succede! Allora abbiamo la polizia lì a fianco, la vedi dalla minimappa? Adesso tanto arrivano proprio nella nostra zona! Quindi sicuramente gira e vediamo se riusciamo a perdere le due stelline così! Allora... Guarda, sta girando, ok? Sì! Per ora a me non l'hanno trovato! Ah, neanche a me! Adesso mi trova, me lo sento! Adesso scendono dalla macchina e vengono qua in giro, eh! No, 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 non mi sta vedendo! Per ora neanche io! Andata! Me le ha tolte! Anche a me! Così semplice! Già! Cioè, basta un cespuglio per non farsi trovare dalla polizia! A quanto pare sì! Tu dove eri? In che cespuglio eri? In quello? Questo! Guarda, questo è bello! È proprio bello! Mettiti dentro, guarda! Sì, 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 sì! Qua non ti vedi proprio! C'è proprio zero di te! Scompari dal mondo con questo cespuglio! Ti può usare per tante cose, guarda! Allora... Quando non vuoi fare qualcosa, te ne vai dentro un cespuglio e nessuno ti vedrà mai più! Esatto! Tipo, ti invitano a un compleanno e non ci vuoi andare e tu ti metti nel cespuglio del giardino di casa del tuo amico e nessuno ti dirà niente! Ma poi ti chiamano al telefono! Ma lo metti in silenzioso, ovviamente! Sì, ma devi rispondere! Quelle sono cose da principianti! Scusa! E ti chiedono a dove sei e tu cosa dici? A casa! L'ho fregata! A casa! A dormire mi hai appena svegliato! E stassi in un cespuglio, ok? E ora siamo i nemici perché mi hai svegliato, giusto? Esatto! E quindi non vengo al tuo compleanno! Wow! Sì, no, perfetto! Sì, sì! Quindi se volete non andare da qualche parte usate questa scusa! Posso parlare? Sì, vai, vai! Era geniale! Visto che questa serie del si può fare è una serie seria, dove le cose le prendiamo seriamente! Seriamente! Voglio arrivare anche a tre stelline e riprovarci! Ok! Tre stelline! Tre, tre, tre! Quindi questa volta... Secondo me funziona lo stesso perché non c'entrano le stelline, però è più emozionante! Però scusa, non stai pensando una cosa? Cosa? Questa volta c'è l'elicottero! Eh, magari ci vede dall'alto, dici? Esatto! Eh, beh, sì, hai ragione! Quindi per quello bisognava testare anche con tre stelline perché appunto questa è una serie seria! Serie seria! Non dirlo mai più, ti prego! Non dirlo mai più! Basta! Guarda, secondo te questo c'è il puglio? Va bene qua? Perché li abbiamo seminati in questo momento di arrivare dove eravamo prima? Sì, è perfetto! Vai, 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 veloce, 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 veloce! Buongiorno, voi non avete visto nulla, eh! Siamo persone normali! Non ci stiamo mettendo in un cespuglio, no? Che si nascondono un po' più indietro? Eh, così, così! Ok! Guarda quanta polizia sta arrivando! No! Sono sbucata! No, dai, ci hai fatto beccare! Cavolo! È difficilissimo! Scusa, il personaggio fa passi l'elefante! Sali, 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 sali! Cioè, tu gli dici di camminare piano e quello cammina così! Perché non ho ucciso i civili? Prossimo lampeggiamento! Vedi, qua c'è già qualche incidentino di percorso! Prossimo lampeggiamento! Solo perché è colpa tua! No, è colpa tua! Sei goffa, muovendoti! Perché no, perché tu non mi avevi avvisato! Io non sapevo bene il cespuglio! Eh, voi ne ho trovato uno lì! Mi sembrava un buon cespuglio, dove fare la cacca! Perché è così che funziona! Tu scendi il cespuglio, se è un cespuglio buono per fare la cacca! Se va bene per la cacca, va bene anche per la polizia! Ma cosa c'entra? È la stessa cosa! Se non ti vede la gente... Basta! Nascondiamoci e basta! Veloce! Veloce scendi! Qui ho il mio cespuglio prediletto! No, 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 devo andare in questo che se non mi vedono! In questo! Giù, giù, giù! Mi nascondo, mi accuccio un pochettino! Ok! Allora! Allora, sono perfetta adesso! Io non voglio dire nulla! Ma c'è la macchina dei criminali proprio davanti ai cespugli! E ci sta passando l'elicottero sopra! L'elicottero non ci ha visto! E in questo momento era sopra di noi! Ok! Vediamo se le 6 poliziotti ci vedono! Quindi i cespugli funzionano anche con gli elicotteri! Sono anche anti-elicotteri! Vedi, se voi non volete andare al compleanno e vi cercano anche con l'elicottero non vi trovano! Perfetto! E i cani però? Fatto! 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 Prima andata! Ne mancano altre due! Allora, come seconda ti voglio proporre una cosa davvero particolare! Vai! Sono prontissima! Sì, quella volta in cui la challenge è fallita e abbiamo fatto la cosa di colpire con la pistola le mine! Certo, certo, certo! Voglio provare in questo modo! Tu sei tipo a 20 metri di distanza da me! E come facciamo a dire quanti sono 20 metri? Eh vabbè, a caso! Ok! Ok, non c'entra la distanza, è giusto per darti un'indicazione! Lanci le mine! Ok! E io cerco di colpirle col fucile da cechino al volo! Ok! Ok! Rimaniamo qua? Sì! Andiamo in qualche campo più bello! No, rimaniamo qua perché stiamo facendo buio, almeno qua c'è un po' di luce comunque! Bello! Allora, mettiti in posizione, lì va bene! Allora ne ho solo quattro però! Ok, dai! Una possibilità! E ho le bombe adesive quindi... Aggiungiamo difficoltà! Sì, sono le bombe adesive, io le chiamo mine ma sono bombe adesive! Verso l'alto però davanti a te, non verso di me! Vai! Più in alto che posso? Sì! Vado! Ok! Mi sposto che non si sta mai? Mancata! Vai di nuovo! Ok! Ok! Non è semplice, te lo dico! Vado! Vai! Poi soprattutto lanciate da un altro! Mmm! Ci siamo, ci siamo! Vai ancora! Devo capire la velocità di sparo del fucile ovviamente! Yeah! Per la seconda volta ce la fa! Ti stavo per dire, sarebbe ancora più epico se riesci a farlo entro le quattro, le uniche quattro che ho! E ora per la felicità! Facciamo esplodere tutto! Voglio l'ultima! Ok! Questa è l'ultima e non ne ho altre! Ok! Ti volevo dire che la provo con un'altra cosa ma no, non me la sento! Vai! Vado! No! No, è finita che un po' metto gli altri! Però abbiamo rovinato tutta l'enfasi! Vabbè, sì! C'eravamo felicissimi festeggiando! Perché provare sapendo che probabilmente feliamo? Perché? Perché ci roviniamo tutto? Era così bello! Vabbè! Quindi anche questo si può fare! E te lo dico! Sotto questo punto di vista, appena ci ricompiamo le mine! Quindi in un altro episodio di questa serie! Se piace il consolini, sondaggio! Proviamo col bazooka! Sì, sì! A voglia, a voglia! Sai quanto può essere difficile? Secondo me quello è impossibile! No, no! Secondo me quello è impossibile! Però... Perché col cecchino se prendi bene la velocità della mina, o come la vogliamo chiamare, è abbastanza semplice! Con un missile! Con un missile tosta, però si può riprovare, sì! Esatto! Ultima cosa che dobbiamo provare, ok? È una teoria che dice che se hai la macchina in fiamme che sta per esplodere, se entri... Quando scapi dal compleanno? Quando scapi dal compleanno, se entri in acqua, si spegne e la macchina non esplode! Ok? Più o meno! Praticamente, è presente quando la macchina sta iniziando a bruciare per esplodere? Sì, no, certo! Ecco, una teoria dice che se tu in quel momento entri in acqua... Ah, di chi è questa teoria? Tua! Sì, però mi piace dire una teoria! Perché vuoi sembrare figo, ma in realtà non la sei! No, in realtà sono le cose che pensa Stef! Ci possiamo provare, ma secondo me conviene andare proprio vicino all'acqua, perché giustamente se adesso la bruciamo esplodiamo prima di andare, quindi muoviti e... Se volevi dire una cosa più scontata, potevi dire uno più uno fa due! Non era così scontata! Poi è ovvio che andiamo vicino all'acqua! Magari volevi fare anche il tragitto di 10 km per renderla più difficile! Ma perché mai dovrei? Perché sei un po' pazza! Più che altro no, dobbiamo andare un attimino a comprare la tannica di benzina nel negozio di armi! Ok, perfetto! Perché altrimenti come la bruci la macchina? Che bello, me la compro anch'io! No! Sì, ne compro un sacco da fuoco alla città! Ma smettila! Buongiorno, mi serve questa tannica! Non faccia benzina! Volevo dire non faccia domande! E mi è uscita benzina! Dicevo non faccia domande su che cosa ci serve! Se ne può comprare solo una! E beh, certo cara! Ne volevo almeno tre o quattro! Sai, per ogni evenienza che ti può capitare nella vita! Non ci sono altre evenienze! Invece sì! Allora sali! Se non la tannica di benzina può sempre essere utile! E ricordo un posto fantastico dove c'è un laghetto molto bellino! Credo che questo laghetto possa andare bene, sinceramente! Mi sembra abbastanza buono! Quindi mettiamo la nuova... No, io! Cosa? Io lo voglio fare! Va bene, vai! Con che numero si mette? Non la trovo! Con il 5! Me lo immaginavo! Ok! Ma sta finendo in terra! Eh, vabbè, ma credo anche nella macchina! Io faccio il giro! Se no sta lì sopra la macchina! Aspetta! E mettila! Ok! Guarda che brava! Che sono nata per dare fuoco alle macchine! Ok, adesso metti la pistola! Ok! Spara per terra! Aspetta! La pistola, non il bazooka! Eh, lo so, ho sbagliato! Mi sto allontanando perché ho paura che faccia molto... Sparo per terra! Io ci sono sopra! Sì, vai! Dove? Dove c'è della benzina buttata? Eccola, eccola, eccola! Sta prendendo fuoco! Ok! E' andata, 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 andata! Aspetta! Oddio! Buttati! Vado! Spenditi, ti prego! Spenditi, spenditi, spenditi! Ma dai! Ma che figata! Ce l'abbiamo fatta! Proprio aggiustata! Come nuova! Come nuova! Tu adesso esci e vai di nuovo in giro! Cioè, bellissima! Mi sono incastrato! Aspetta! Ti aiuto, eh! Ti fermo! Ti aiuto! Come burlona, Ferinichi! Oggi ti sei svegliata... Sì, frizzantina! Frizzantina, sì! Esatto! Si vede, si vede! Allora, a questo proposito voglio provare un'altra cosa! Scusate, mi serve un attimino questo! Sì, grazie! Grazie, molto gentili! Mi vogliono prendere a pugni, ma io me ne vado in retromarcia! Hai già immaginato che cosa voglio fare? Sì, vuoi provare a spegnerlo col camion dei pompieri! Esatto! Già intuivo, perché può essere molto diverso! Quindi! Allora, procediamo a organizzare bene! Esatto! Perché devi organizzare come mettere il camion, capito? Allora, ascolta me! Io mi sono nascosta! Ascolta me! Ok, devi prendere una macchina e poi metterla a fuoco! Prendiamo questa macchina che tanto è brutta! Guarda, ti faccio solo un favore a darle fuoco! Ma quando? Ma quanto è brutta! Oddio! Tutto ok? Sì, è solo staccato uno sportello! Ok, ok, no, ci siamo! Tu inizia a mettere la benzina! No, sta arrivando un pompiere a prendermi a pugni! Pompiere, lasciami in pace! Oh, povera! Ma dimmi te che viene a inseguirmi con l'estintore, il pazzo! Ma dimmi te! Ok, fatto, ci sei! Allora, aspetta che voglio mettere il segno! Stai ferma, stai ferma lì! Se non ti dico di muoverti, non ti muovere! Ok? Non funziona così, io faccio quello che voglio! Dove sei? Allora, al mio 3 metti il fuoco alla macchina! Io sono a 200 metri di distanza, arrivo come se fossi proprio un pompiere, lo è! E cerco di spegnere! Ok, vado! 3, 2, 1, accendila! Ok, c'è la fiamma! Ok! E tra un po' prende la macchina! Sta arrivando! Vai, vai! Sta prendendo fuoco a malissimo, ti devi muovere! Sta arrivando! Dov'è? Spengo! Il pompiere eroe! Ce lo stai facendo! Il pompiere eroe vuole salvare anche la macchina! Dai, spegniti! Sta prendendo fuoco tutto al prato, però aiuta! Questo è un problema! È una tragedia! Si sta spegnendo, ce l'ha fatta! Ce l'abbiamo fatta! Allora! Abbiamo capito che è possibile, ma non fatelo nell'erba, perché sennò prende fuoco tutto il prato! Esatto, abbiamo imparato una cosa importante! Solo dalle altre parti! Però voglio dire una cosa! Dovevi stare dentro la macchina, perché dovevo essere l'eroe che ti salvava! E allora lo rifacciamo! Aspetta! Prova in il cemento, per favore! Non me l'avevi spiegato, però! Vabbè, altra macchina, scusami! Buongiorno, collega! Ma ti giuro, aspetta! Cosa succede? Cosa vuole? È pazzo, vero? È salito! Pensando che fosse il suo collega, appena è salito si è accorta che non ero io! Ed è scappato! Ed è stato sta risalendo! Guardalo, vedi? Il fumo ti ha dato la testa, vero? Guarda ancora! Ancora! Guardalo! Lui sale, si accorge che non sono il collega e scappa correndo, vedi? Prontissima! Sta bruciando tutto! Sta bruciando? Sì! Ma sono a 300 metri! Ma dovevi essere a 200! Arrivo! Non mi farai morire qui dentro! Pensavo che... Mi farai morire qui dentro! Che mi facessi in 3, 2, 1! Arrivo! Ma tu mi hai detto vai! Arrivo, cara! Dovevi bruciare da sola? Cosa è successo esattamente? Ha smesso di bruciare ed esplosa! Appena io sono arrivato, non ce l'ha più fuoco! Mi fai e si è spento ed esplodi! Non ho parole! No, ci dobbiamo riprovare! No, basta, basta! Ultimo! No, 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 no! Non mi hai mai salvato! Non mi hai mai salvato! Guarda! Guarda come ti salvo! Con un po' di acqua perché puzzi! Comunque! La cosa importante è che abbiamo appurato che sì, si può spegnere la macchina in fiamme in un lago, quindi in una fonte d'acqua! Sì, si può fare esplodere le mine con un cechino! E sì, ci si può nascondere dalla polizia, sia dagli elicotteri che dai poliziotti normali stando dentro un cefuglio! Quindi tutto quello che abbiamo provato per questo episodio si poteva davvero fare! Speriamo che questa serie vi piaccia come idea! Secondo me è divertentissimo, mi sono troppo, troppo, troppo divertita a registrarlo! E forse è uno dei video più divertenti che ho registrato in questo periodo di GTA! Sono d'accordo, sono d'accordo! Mi sono divertita troppo! Ovviamente se volete potete proporre idee, anche cose molto folli che noi ovviamente proveremo nei prossimi episodi! Esatto! Selezioniamo dei commenti, selezioniamo un po' di nostre idee, decidiamo un pochettino cosa fare, alcuni episodi magari sono due cose, alcuni quattro, alcuni sei, alcuni quarantacinque! Dipende da quanto due! E muore! Sono morta con la mozzone mentre! E volevo dire che nel caso, comunque, se questa serie viene promossa, faremo GTA Challenge! Questo e l'online! Quindi potete stare tranquillo, continuiamo! Tranquilli! Continuiamo tutti e tre! E basta, perché non riesco più a parlare! Bene che se dici così, sentici un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao!